buongiorno pagina trevigiana di rassegna stampa tg plus oggi 24 luglio la tribuna di treviso lorenzo un malore in cella non centro mi uccido oggi l'interrogatorio ma non risponderà il giudice caccia in spagna i due sicari ancora in fuga le intercettazioni killer in sopralluogo per dieci giorni alla casa di margherita e va avanti anche questa storia suicidio assistito per una trevigiana il primo caso nella regione si parla della legge sul film evita mogliano in seguimento quattro feriti arrestato il ladro in fuga con l'auto altre notizie di cronaca e piazza borsa nella foto notizia treviso una gang di ex galeotti rapinatori minacce a chi passeggia così i turisti fuggono piazza borsa è sempre stata nel mirino delle forze di polizia allora vediamo un po poi l'italia d'argento frigo trascina la staffetta 4 per cento è successo della della staffetta 4 per cento peccato per pochissimo poteva essere oro però è andata così è un bel argento in ogni caso prima ammazza suo fratello durante una lite poi si spara lo scrive lo riporta anche la tribuna di treviso è un caso veronese ma d'altronde anche i giornali delle varie province comunque riportano i fatti del veneto troviamo su gazzettino patrizio alla vita da recluso in casa omicidio suicidio e questo è lo stesso caso che abbiamo citato poco fa mentre nella foto notizia di del gazzettino il burchini vietato in spiaggia la protesta e le polemiche si va a finire fino a monfalcone a monfalcone per quel che riguarda grande pagina iniziale del gazzettino c'è una notizia di carattere nazionale meloni la svolta sui migranti i premi al vertice collideri africa e golfo necessari ue italia ma soltanto quelli regolari serve un impegno comune più collaborazione l'immigrazione irregale di massa danneggia tutti e in friuli il sindaco contro la moschea temo per l'ordine sociale e corriere della della sera sapete che lunedì non esce il corriere del vento ma si parla della staffetta dell'agento per i magnifici 4 e la spagna il governo difficile beni popolari male l'ultra destra vox i socialisti meglio del previsto e qualche notizia che arriva anche dal fronte raid su odessa colpiti civili la cattedrale dice reagiremo e rodi in grecia roghi fuori controllo 30 mila evacuati la farnesina dice non partite per andare in grecia anche veneti che devono partire probabilmente dovranno rivedere un po il piano vacanze rodi panico e turisti in fuga noi inseguiti dalle fiamme e il papa gli anziani non sono scarti sulla pagina generale di notizie plus vediamo solamente questa questa mattina mattarella fa 82 anni gli auguri di zaia vede nell'autonomia il rispetto della costituzione jesolo muore ragazzo di 26 anni in un incidente stradale e arriva da ischia il nuovo presidente turismo cultura di confindustria veneto s poi le altre notizie le trovate scorrendo il portale è tutto anche per oggi